Un percorso di educazione civile per sensibilizzare le scolaresche alla lotta contro le mafie è un corso di formazione che è iniziato da settembre 2021, si conclude oggi con la presenza proprio della figlia di una delle vittime delle mafie. Gilda Pescara, sulla base di quali linee guida vi siete orientati per questo tipo di corso? Quest'anno abbiamo inteso dare uno sviluppo ulteriore al lavoro contro le mafie con segni narranti la rete di scuole, di 21 scuole della provincia che dall'inizio dell'anno per l'appunto ha insieme alla prefettura concordato un itinerario formativo, intende lasciare un segno concreto di impegno nei territori perché dalle storie delle persone che saranno ricordate dagli studenti si possano seminare ecco appunto dei piccoli germogli di impegno civile da parte degli studenti che riteniamo essere molto importante per una scuola che educa la città. Beh, sono trascorsi i 27 anni e sicuramente far comprendere ai più giovani come il passato parli nel presente, soprattutto in senso di una memoria non retorica leggere, leggere tanto le notizie, le notizie locali soprattutto di capire quale sia la realtà che li circonda ed avere uno sguardo non disperato, non pensando che non si possa fare nulla ma che davvero dobbiamo costruire insieme un impegno che dia speranza un esempio concreto descrivere la vittima come colei o colui che si è rivenuto a ritrovare nel momento sbagliato, nel luogo sbagliato questo è il tipico stereotipo narrativo che non solo incolpa ulteriormente, ecco vittimizza ulteriormente la vittima ma non fa comprendere il vero danno che le mafie o la criminalità in generale compiono a tutti noi